Torno a casa dopo una festa con degli amici, dove ho incontrato persone straordinarie che dico sono stato bene, ero felice. Gli inglesi traducono i termini di felicità con happy, che viene da happen, che significa qualcosa che accade, qualcosa di improvviso. I filosofi greci invece pensano alla felicità come qualcosa di stabile, perché è felice colui che vive secondo le proprie virtù. Un po', secondo quello che mi piace più fare, secondo quello che sente dentro. Quindi una felicità stabile e una felicità momentanea. Quale delle due preferite?